I borghi sono battiti di cuore, sono scrigni di storia, cultura, tradizioni. L'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia lavora finché diventino l'infa vitale per una nuova economia. A Pretoro si è svolta la terza tappa di avvicinamento al Festival Nazionale dell'Associazione che si terrà il 9 settembre ad Abateggio e il 10 l'11 a Caramanico Terme. Un grande evento costruito tappa dopo tappa con i sindaci e con la gente. Sentiamo Antonio Di Marco, presidente dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, Abruzzo e Molise. Noi abbiamo messo in piedi qui a Pretoro una terza tappa straordinaria perché qui abbiamo calato l'asso, abbiamo portato l'ambasciatore dei Borghi Più Belli d'Italia, Osvaldo Bevilacqua, che non ha nulla da imparare certamente da nessun altro in Italia in termini di conoscenza approfondita dei territori, quelli minori, quelli diciamo più distanti rispetto ai flussi turistici di qualità intesi come numeri di presenze. Però lui ci ha insegnato in questa giornata che è importante se vorrà guardare i borghi ma soprattutto puntare ad avere, come ha detto lui, un parametro così detto di 5.000 utenze annue che possano certamente sostenere il singolo borgo piccolo come Pretoro. E dice tanto questo perché è una misura che fa comprendere che è arrivabile, è possibile, bisogna mettere insieme le energie migliori del territorio e farsi conoscere. Farsi conoscere significa stare dentro a quei sistemi di comunicazione e dare un'immagine positiva dei borghi. Oggi abbiamo dato un'immagine positiva dei borghi dove tutti avrebbero voglia di viverci e di starci tutto l'anno. Ecco, questa è la nostra sfida, poi l'esempio virtuoso di questo progetto nazionale del turismo in ritorno dice tanto perché portare qui il livello nazionale che è strettamente connesso con le politiche del Ministero degli Affari Esteri significa essere riconosciuti come territorio regionale e avere l'Abruzzo come capofile in questo progetto ci incoraggia ancora a fare meglio. Ama i borghi d'Abruzzo il noto conduttore Osvaldo Bevilacqua che è anche abbasciatore dell'Associazione Nazionale. In questo momento c'è bisogno dei borghi più belli d'Italia, c'è bisogno del piccolo borgo, però c'è anche necessità che gli amministratori cominciano a pensare che si apre. non posso dire grazie perché è un termine odiato, covid, che si scrivono con la C, io lo vorrei scrivere con la C maiuscola, non maiuscola, minuscola, proprio piccola piccola che se ne deve andare, però ci ha fatto effettivamente scoprire un mondo nuovo, un'epoca nuova. Oggi tutti, vedo che sono addirittura anche dall'estero australiali che mi chiamano, Osvaldo, tu che conosci bene, ma ci suggerisci un borgo dove andare a vivere, a vivere, sono anche manager importanti, però gli devi far trovare i servizi, devi far trovare la connessione, quindi le fibre ottiche o qualsiasi cosa, purché ci sia la possibilità di connettersi perché oggi molti vogliono fuggire dalle grandi città. Pretoro ha accolto la tappa in un momento di festa per il paese con le sue tipicità, il sindaco Diego Giangiulli. Siamo molto contenti oggi di aver ospitato la terza tappa di avvicinamento al Festival Nazionale che ci sarà a settembre ad Abbateggio e a Caramanico. Per noi è stato un momento molto importante, un potassello importante proprio per la promozione turistica territoriale, abbiamo condiviso esperienze con gli altri sindaci della famiglia dei borghi più belli d'Italia e siamo molto molto soddisfatti. Grazie a tutti.